Migliore la postura per le prossime 4 mesi 24 ore su 24 con Quantares Life 2.0 senza fastidi, senza costrizioni e senza noiosi elezioni di posturale Quantares, il bracciale elettromagnetico 100% made in Italy, veste i campioni dello sport Ancora meglio, da oggi Quantares è ancora più potente e ha la durata prolungata fino a 4 mesi Indossalo ininterrottamente 24 ore su 24 anche sotto l'acqua Tu dimenticherai di averlo addosso, ma lui non dimentica di te Quantares attive da solo i muscoli necessari per allineare il corpo con la forza di gravità già entro un'ora dell'indosso Risultati? Più equilibrio, meno fastidio articolare e più energia Quantares classico ha già superato 130.000 pezzi venduti ed ora puoi provare la versione migliorata e più potente Nulla è più facile ed economico per ridurre il fastidio articolare e aumentare l'energia Clicca sul link per ordinare il tuo subito a un prezzo speciale Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!